... Colpo di scena nel caso dell'inchiesta sui lavori alla Darsena Servizi, il procuratore Vardaro ha presentato ricorsi in appello contro la sentenza di assoluzione. Sottoscritto nel pomeriggio il licenziamento collettivo dei 34 lavoratori della Royal Basse, fra cui 26 autisti che hanno sospeso dopo 7 giorni lo sciopero. Potere al popolo si presenta. In una conferenza stampa il nuovo partito ha annunciato programmi e candidature per i collegi territoriali. Continua il boom di cremazioni a Cipitavecchia. Su 772 persone decedute lo scorso anno nella nostra città, ben 183 hanno deciso di non essere tumulate. È positivo il bilancio del girone di andata per le due formazioni di serie C dell'Asp e la Margutta in segue il sogno B2 Sartorelli fuori dalla zona rossa. Buonasera, vediamo subito con la prima notizia. La Procura della Repubblica di Cipitavecchia ha presentato ricorsi in corte d'appello sul caso della realizzazione della Darsena Servizi. La presa di posizione contro la sentenza di non luogo a procedere messa dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Cipitavecchia è stata firmata direttamente dal procuratore capo Andrea Bardaro. Vediamo. Sembrava ormai definitivamente archiviato il caso della Darsena Traghetti e Servizi ed invece non è così. La Procura della Repubblica di Cipitavecchia non ha gradito lo schiaffo rifilatole dal giudice per le udienze preliminari Massimo Marasca che ha decretato il non luogo a procedere per tutti gli imputati, per di più con una sentenza che sembrava non lasciar radito a dubbi, ovvero il fatto non sussiste. E invece per il procuratore capo Andrea Bardaro quel fatto sussiste eccome, tanto che ha firmato il ricorso in appello. E l'ha firmato solo lui, non l'APM titolare del fascicolo, Allegra Migliorini, che però aveva ereditato l'inchiesta istruita dall'allora sostituto procuratore civitavecchese Lorenzo del Giudice. Il dottor Bardaro ha spiegato i motivi del ricorso in una ventina di pagine inviate alla Corte d'Appello, evidentemente in maniera piuttosto sintetica, dato che quel fascicolo è formato da circa 15.000 pagine. Dunque adesso speterà alla Corte d'Appello decidere se accogliere o meno le richieste della magistratura inquirente locale, che in quel procedimento aveva messo alla sbarra i vertici di Molo Vespucci, i titolari ed alcuni operai delle imprese che fornirono la pietra per realizzare quell'opera marittima. Alla base delle indagini infatti c'è proprio il fatto che il materiale utilizzato non era conforme a quello indicato nel capitolato d'appalto, secondo la Procura. La decisione della magistratura è destinata a riaprire quei veleni legati allo scalo locale, alimentati soprattutto dalla politica e dalla sua sete di potere, che si era scatenata al momento dell'indagine e che aveva portato anche al sequestro del Molo in Costruzione. Il sentente frontale questo pomeriggio intorno alle 17 a Cervetere, al chilometro 48 dell'Aurelia, una Skoda Ottavia ed un busse di linea del Cotrale che percorreva la tratta Roma-Ladispoli-Cipitavecchia, Tolfa, si sono scontrati frontalmente. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a liberare il conducente dell'autovettura, rimasto incastrato fra le lamere alle fine di affidarlo alle cure del personale medico del 118, che lo hanno poi trasportato all'ospedale in codice rosso. Il conducente del Cotrale e i cinque passeggeri sono scesi dal mezzo senza conseguenze e sono rimasti sul posto con il personale medico del 118. Il bus ha terminato la corsa in una cunetta. Circolazione ferroviaria intilte sulla F15 Roma-Cipitavecchia. In mattinata un'effreccia bianca diretto al deposito di Roma Termine, dunque vuoto, ha sviato sui binari andando ad intralciare la circolazione ferroviaria nella stazione Capitolina. Sul posto è immediato l'intervento del carroattrezzi. Per cercare di ridurre al minimo i disagi per i pendolari, i treni regionali in arrivo e in partenza da Cipitavecchia saranno fatti fermare a Roma-Ostiense, dove Trenitalia ha potenziato l'assistenza ai passeggeri. Arriveranno e partiranno invece a Roma Termini con una frequenza di 1 ogni ora i Pisa e i Grosseto. Settimo giorno di sciopero per gli autisti della Royal Bus che questa mattina hanno cercato di parlare col Presidente della società Massimiliano. Passa l'acqua. Sentiamo le novità. Settimo giorno di sciopero per gli autisti della Royal Bus. Sono arrivate alcune buone notizie, che sono quelle del verbale sottoscritto con Port Mobility, però l'atteggiamento invece di Royal Bus vi lascia un po' perplessi. Stamattina gli animi si sono un po' scaldati. Sì, stamattina gli animi si sono scaldati perché c'è stata l'ennesima presa in giro da parte del nostro datore di lavoro, anzi tra un po' ex datore di lavoro, che continua a ribadire che ha fatto tutto, che ha sbloccato i conti, i famosi conti di equidaglia per poter pagare i nostri stipendi, ma ad oggi non c'è nessuna certezza, nemmeno ci fa vedere le carte che attestano questo. Noi gli diamo questo, gli diamo le carte che attestino il pagamento di questa cartella famosa equidaglia che sia per poter sbloccare i nostri conti, anche Port Mobility per poter pagarci i nostri stipendi come si è impegnata. Da tre mesi senza stipendio, vi presumo anche senza tredicesima, da una settimana in protesta qui sotto Royal Bus, quale saranno le prossime azioni e quanto continuerete a stare qui? Allora, noi continuiamo a stare qui a oltranza finché non avremo i nostri diritti, sia gli stipendi che il futuro del nostro posto di lavoro che ci aspetta, che ci è stato tolto. Le prossime azioni saranno spostarci sotto la trapportuale, se serve ad oltranza H24 anche di notte. Già lo diciamo che finché non ci sarà dato quello che ci aspetta, noi da qui non ci spostiamo. Giancarlo Riccio, SB Lavoro Privato, mattinata un po' movimentata, si stanno scaldando gli animi? Dopo quattro mesi di mancati stipendi, oltre la tredicesima, siamo arrivati alla fine del gennaio, perciò è passato anche il gennaio, e gli animi normali che sono caldi. Cercheremo in tutte le maniere di trovare le soluzioni possibili, immaginabili per cercare di dare futuro a questi lavoratori. Un verbale d'incontro già con la porta immobili abbiamo fatto con degli impegni ben precisi, ci sarà la famosa clausso sociale del nuovo codice degli appalti e questa mattina dovremo firmare il licenziamento collettivo. Sì, ci saranno tutte le condizioni per fare questa cosa, ma a questo momento sembrerebbe che le condizioni ci sono. Ora vedremo la situazione insieme alla società Royal Bus di alcuni cartelli di pagamento che lui ha in questa situazione, perché deve sbloccare a livello di Equitalia questi soldi che poi diventeranno immediatamente esigibili dai lavoratori per tutte le mancanze di questi ultimi mesi. Si era parlato di pignoramento dei conti, di blocco dei conti da parte vostra, si farà questa ingiunzione di pagamento soprattutto? Allora noi questa mattina abbiamo fatto per prima cosa la surroga, che la surroga obbliga i committenti, in questo caso Porte Mobility, a diventare attore principale e si sostituisce alla Royal Bus. Il problema è sempre il discorso di pignoramenti da parte di Equitalia, però questa cosa non ci serve perché immediatamente dopo faremo le ingiunzioni nominative dei lavoratori per garantire che non ci si inseriscono altri creditori e loro dai privilegiati diventerebbero chilografati, diciamo, questa è la cosa tecnica. Loro sono privilegiati, perciò per noi devono essere i primi a prendere i soldi, questo è importante per noi. Continuiamo a parlare di lavoro, nessun lavoratore locale precedentemente impiegato nelle imprese di pulizia che operavano all'interno della centrale di Torre Valdaliga Nord ha perso il posto di lavoro, lo precisa Enel facendo riferimento alla nota con la quale l'ex sindaco di Dei aveva lamentato ieri l'assegnazione dell'appalto ad un'impresa forestiera. L'azienda energetica specifica che i lavoratori che già operavano presso il sito continueranno a lavorare anche con la nuova società giuricataria, grazie alla clausa sociale inserita nel contratto, confermando quindi la massima attenzione ai temi del lavoro e del territorio. Enel sottolinea infine che l'appalto è stato assorbito all'interno di una più ampia gara nazionale aggiudicata in precedenza e come sempre basata su criteri di qualità, concorrenza e specifici parametri tecnici e che gli inviti a partecipare alla tale gara sono stati rivolti a tutte le imprese in possesso delle qualifiche necessarie. Il capogruppo della svolta, Massimiliano Grasso, interviene nel dibattito aperto dall'ex sindaco Tidei nel ruolo dell'imprenditoria locale alla luce di appalti che sempre più frequentemente vengono assegnati a imprese forestiere. Per Grasso è necessario trovare nel rispetto delle norme vigenti sistemi di tutela delle imprese locali oltre che dei loro dipendenti. Il capogruppo della svolta evidenzia come a suo giudizio i pochi imprenditori locali supersiti ormai non hanno più alcuna tutela nel momento in cui le stazioni appaltanti del territorio formalmente rispettano il codice dei contratti, ma nella sostanza procedono con soglie di qualifiche sempre più elevate e di fatto escludono le aziende del territorio anche dagli inviti alle gare. Caso di meningite a Cerveteri, dove nei giorni scorsi a quanto pare una sessantenne avrebbe presentato i sintomi subito trasportata all'ospedale San Paolo di Civitavecchia. La donna che estremberebbe in condizioni gravi è stata subito trasferita al Policlinico Gemelli di Roma. Nel frattempo è partita subito la profilassi da parte dell'ASL nei confronti di tutti i soggetti venuti a contatto con la sessantenne. L'azienda sanitaria in segno di rispetto per i familiari della paziente è in attesa dei risultati da parte dei medici dell'ospedale prima di comunicare ulteriori informazioni. La situazione del San Paolo sbarca all'Aula. Pucci è stato convocato per giovedì 8 febbraio un consiglio comunale aperto per discutere il sovraffollamento del pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Vediamo. Il prossimo 8 febbraio torneranno ad aprirsi alla cittadinanza le porte dell'Aula Pucci. Dopo le vertenze di Renault Power ed Elios e l'acqua pubblica, questa volta il consiglio comunale aperto tratterà il sovraffollamento del pronto soccorso all'ospedale San Paolo. Un tema spinoso, particolarmente sentito in città e per discutere il quale il consigliere Fulvo Flocari ha richiesto l'apertura del dibattito ai cittadini. La mia intenzione come primo firmatario della richiesta, afferma il consigliere del Movimento 5 Stelle, è quella di fare una corretta informazione alla cittadinanza e discutere dell'oggetto nel luogo della democrazia per eccellenza, ovvero il consiglio comunale. All'appuntamento fissato per giovedì 8 febbraio alle 16 sono stati invitati, oltre ai cittadini, i responsabili della Asle Roma 4 e gli esponenti politici regionali e nazionali del territorio, affinché la problematica venga vista da più punti di vista e ognuno possa dare il suo contributo propositivo alla vicenda. Il sovraffollamento del pronto soccorso è particolarmente grave, sottolinea Flocari, ed è un problema molto sentito da parte della cittadinanza. È giusto quindi che i consiglieri comunali facciano proprie queste preoccupazioni e si attivino per cercare soluzioni e stimolare un sano dibattito. Il sovraffollamento del pronto soccorso del San Paolo e più in generale le carenze dell'ospedale cittadino sono oggetto di aspre polemiche politiche, praticamente quotidiane, tra il 5 Stelle ed il PD, con uno scontro anche istituzionale tra comune e regione. Come si ricorderà la settimana scorsa, il sindaco Antonio Cozzolino non ha voluto prendere parte all'inaugurazione del blocco ostetricia del San Paolo da parte del governatore del Lazio Nicola Zingaretti, che secondo il primo cittadino continua a vendere fumo alla cittadinanza e a nascondere le gravissime situazioni dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Flocari, almeno a parole e a più di una settimana dal Consiglio Comune all'Aperto, sotterra l'ascia di guerra. Auspico che non diventi una sterile polemica politica, afferma il consigliere del Movimento 5 Stelle, perché quando si parla di salute si parla di un qualcosa di fondamentale importanza e che tocca nel vivo tutta la cittadinanza, a prescindere dall'appartenenza ad un partito piuttosto che ad un altro. Ed intanto si è svolto ieri l'incontro in Regione Lazio per discutere della programmazione del budget relativo alle assunzioni per il bienio 2018-2019. A seguito della riunione nelle more delle decisioni complessive della Regione Lazio è stata data autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di 13 medici, 2 dirigenti farmacisti e 5 tecnici di radiologia. Per quanto riguarda i medici, 5 sono destinati al pronto soccorso, 2 alla pigliatria e altrettanti alla psichiatria, 2 ad ortopedia e altrettanti alla medicina interna. E' polemica a Cerveteri per l'interrogazione presentata dal consigliere di maggioranza Claudio Nucci sullo stato di finanziamento per la riqualificazione del lungomare dei navigatori etruschi a campo di mare. Ad insorgere contro il consigliere di maggioranza sono il Movimento 5 Stelle e i consiglieri dell'opposizione Aldo De Angelis e Salvatore Orso Mando. Vediamo. Il consigliere di maggioranza di Cerveteri, Claudio Nucci, presenta un'interrogazione alla sua stessa maggioranza sui finanziamenti del lungomare dei navigatori etruschi e l'opposizione in solito. Ci sfugge il senso di questa interrogazione, tuonano dal Movimento 5 Stelle, visto che ci aspettiamo che sindaco e maggioranza parlino tra loro e che i consiglieri vengano aggiornati. I grillini puntano i riflettori anche sull'interrogazione presentata da loro qualche mese fa. In quell'occasione il sindaco ci disse che a causa di varie segnalazioni arrivate in regione da parte di consiglieri di opposizione, il finanziamento era per il momento in attesa di essere erogato in quanto la regione stessa chiedeva al comune di Cerveteri alcune integrazioni necessarie al fine del conferimento. Essendo passati pochi mesi, dunque difficilmente il sindaco darà risposte diverse a meno che non ci troviamo in calza il Movimento 5 Stelle davanti a un simpatico teatrino messo lì per far credere che la maggioranza sia libera e indipendente, tanto da poter mettere in difficoltà il sindaco con insidiose domande da cui lui saprà magistralmente svincolare o che del tutto casualmente userà come assist per rivelarci che tutto è risolto e che l'indomani cominceranno i lavori. Dello stesso avviso sono i consiglieri di opposizione Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando che vedono l'interrogazione presentata da Nucci come una mancanza di rispetto per i cittadini oltre che il rispetto delle regole. E' inutile preparare un'interrogazione ad hoc, hanno detto, o a spalla per consentire al sindaco di rifilarci il suo solito show e raccontarci la parte della medaglia a lui più gradita perché la realtà è un'altra. Il sindaco e la sua maggioranza, incalzano De Angelis e Orsomando, evitano di raccontare che la Regione Lazio ha richiesto nella prima settimana di dicembre 2017 una dettagliata comunicazione, un'importante integrazione e produzione dei documenti a corretto della tardiva richiesta di contributo per i quali, guarda caso, vi è la richiesta di fornire copia di quella delibera di giunta, ad oggi inesistente, che la giunta avrebbe dovuto correttamente approvare prima della stipula di un qualsiasi comodato d'uso gratuito, quella stessa delibera di giunta, oggi fantasma, riportante l'esplicito affidamento e autorizzazione al dirigente comunale per la predisposizione degli atti per arrivare alla stipula del comodato d'uso gratuito da parte di Ostilia al Comune, oltre a precisare indicazioni e contenuti del documento da stipulare successivamente. Ma non solo, i due consiglieri di minoranza puntano i riflettori proprio sulla concessione in comodato d'uso gratuito effettuata ad Ostilia, che non sarebbe una concessione a tutti gli effetti delle aree per le quali l'amministrazione ha chiesto il finanziamento. Ecco che allora l'abbiamo data a noi la risposta all'interrogazione della maggioranza su questo strambo finanziamento pubblico su proprietà privata e cara maggioranza, concludono De Angelis e Orsomando, dopo aver presentato e esposto alle competenti autorità, non ci fermeremo qui e proseguiremo per fare ulteriore chiarezza, per comprendere se vi sono responsabilità oggettive e soggettive, per quanto accaduto sino ad ora. La Tari del 2018 in realtà non è aumentata, come potrebbero far pensare i numeri, a cercare di chiarire la situazione prima della ribellione da parte dei cittadini e dell'insorgere delle opposizioni è il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando. In questi giorni, ha detto il sindaco, ci siamo accorti che i numeri inseriti nel piano finanziario approvato lo scorso anno non erano veritieri. Tra le previsioni di spesa, calcolate a colpi di numeri fantasiosi e omissioni rispetto alla realtà delle cifre, abbiamo trovato una differenza di oltre 600 mila euro. Insomma, lo scorso anno la Tari doveva montare a 8 milioni 617 mila euro e non a 7 milioni e 996 mila euro. Per Grando, dunque, se fossero stati trascritti i numeri giusti, quest'anno avremmo dovuto avere una riduzione di oltre 150 mila euro. L'unica soluzione, ha spiegato il sindaco, per diminuire la tassa sarebbe stata quella di andare in continuità con il modio di amministrare di chi ci ha preceduto, manipolando i numeri a nostro piacimento e aggravando quindi ancor più la già critica situazione del bilancio comunale. Ma non è questo il nostro modo di fare e di intendere la politica. In questo momento ha poi proseguito Grando. Come ho già avuto modo di dire a più riprese durante la campagna elettorale, ridurre in maniera considerevole la Tari con il contratto in essere non è materialmente possibile. Politica. Sono stati presentati dal coordinatore locale Fabrizio Baffetti, candidati al Parlamento del nuovo partito Potere al Popolo. Germano Di Francesco, candidato alla Camera, e Franco Bartolomei, candidato al Senato. Cercheranno consenze sottolineando la loro alternatività al Movimento 5 Stelle e al centro-sinistra tradizionale. Vediamo. Candidatura di Potere al Popolo, come nasce e quali sono i vostri obiettivi? La mia candidatura personale nasce da un percorso lunghissimo attraverso tutti i movimenti della sinistra, anche le lotte territoriali per i vari questioni ambientali e per il lavoro localmente. Come Potere al Popolo nasce come una realtà che si presenta a livello nazionale come aggregazione di tutte le istanze sociali, sia di movimenti politici della sinistra che di realtà tipo Notav, ambientaliste, centri sociali e altre nel mondo del lavoro, sindacalismo di base. Come mai questa alternatività alla sinistra che si è presentata e che ha governato il Paese? Noi non riteniamo di essere alternativi alla sinistra, noi siamo la sinistra, il resto non lo consideriamo purtroppo più sinistra. Il PD certamente non è sinistra perché il PD fa delle politiche liberiste della destra, quindi il PD sicuramente no. Liberi uguali ci sembra semplicemente una stampella del PD con dei piccoli distinguo, tanto che i loro dirigenti a livello nazionale non parlano mai per esempio di abrogazione del Jobsat, ma semplicemente di ritocchi, per esempio, per fare un esempio. E quindi noi invece siamo un'alternativa radicalmente di sinistra antiliberista. Dopo l'approvazione in giunta del 22 gennaio scorso è stata firmata dal sindaco Cozzolino la nuova convenzione fra comune e soprintendenza per la gestione del complesso monumentale delle terme taurine. Il nuovo accordo fra gli enti prevede una durata di 10 anni rinnovabili mediante comunicazione scritta fra le parti da effettuare almeno sei mesi prima della scadenza. L'assessore all'ambiente e ai beni culturali Alessandro Manuedda esprime la sua soddisfazione al riguardo e sottolinea che dopo la querelle dei mesi scorsi ora si può definitivamente verificare che si trattava di polemiche sterili e che la collaborazione con la soprintendenza proprietaria dei resti archeologici esce rafforzata dalla disdetta della precedente convenzione e dalla stipula del nuovo accordo. Ciò per Manuedda non solo per la maggiore durata, ovvero 10 anni al posto dei tre previsti in precedenza, ma per la piena unità di intenti riassunta nel documento. Prosegue il boom delle cremazioni a Civitavecchia. Nel 2017 si è raggiunto il picco di ben 183 cremazioni per una percentuale di il 23,7% sul totale dei decessi. Un numero impressionante se si considera che solo nel 2012 la percentuale delle persone che desideravano di essere cremate era inferiore al 10%. Vediamo. Un quarto delle persone in deceduta a Civitavecchia viene cremato. Nel corso del 2017 è infatti arrivata al 23,7% la percentuale delle persone che hanno deciso di passare da un impianto di recriminazione prima dell'eventuale tumulazione. Sulle 772 persone decedute lo scorso anno nella nostra città, tra i quali 207 non residenti, per ben 183 ha avuto luogo la cremazione. Il numero fa impressione se rapportato a quello del 2012, ovvero di solo i 5 anni prima. Proprio nel 2012 i decessi furono praticamente gli stessi, 771, ma le cremazioni ebbero luogo soltanto per 75 salme. Si è quindi passati da un percentuale del 9,7% di cremazione nel 2012 all'attuale 23,7% e tutto lascia ritenere che il numero sia comunque destinato a salire. Considerando anche che entro l'anno entrerà in funzione il forno crematorio allestito all'interno del cimitero di via Braccionese-Claudia e si ridurranno ulteriormente i costi per le famiglie. Proprio l'aspetto economico sembra essere alla base del sempre più frequente ricorso la cremazione, oltre a quello riguardante la cronica carenza di tombe e loculi che rendono difficile la tumulazione, con salme che spesso sono costrette ad attendere settimane prima di trovare una collocazione, peraltro non sempre definitiva. Diversa, infine, la destinazione delle salme cremate. Stando ai dati riferiti all'anno scorso, il 66% dei parenti preferisce che le ceneri siano comunque tumulate e trovano quindi collocazioni in un cimitero. Nel 2017 è stata purtroppo identica invece la percentuale dei congiunti che hanno scelto di tenere le ceneri in casa e di quelli che certamente per dare seguito a una richiesta del defunto hanno preferito che andassero disperse in mare o altrove. Anche quest'anno, dopo 11 anni consecutivi, l'Istituto Marconi di Cipitavecchia ha iniziato il progetto Nonni su Internet con l'Auser. Il corso è intitolato al compianto presidente Ferrero Galli. In programma due cicli di lezioni per una classe di circa 20 alunni, tutti over 60, mentre gli insegnanti saranno gli studenti del Marconi. Suggestioni letterarie, voci e suoni. Torna per il quarto anno consecutivo. Ameni, inganni, adattamenti scenici di testi d'autore di Econettore, Falsetti e Lucia Scaggiante. Titolo del primo incontro, che andrà in scena domani alle 18.30 al nuovo Sala Gasman, è Conne la rivolta nel cuore, sfida e aneliti di libertà nella letteratura francese. Parteciperanno Simone Adeleo, Federica Falsetti, Alessandro Tagliani, Antonio Massimo, Aurora De Paolis, Chiara Tranquilli, Federica Corda, Giulia Conte, Massimiliano Puddu e Nicoletta Pagano. E passiamo ad una segnalazione che arriva da via Bernardini. Un nostro telespettatore denuncia la presenza di una perdita idrica che insiste sulla strada da oltre un anno. Sempre stando al telespettatore, la via è sporca perché la pulizia non viene effettuata nel modo adeguato. Bene, questa era l'ultimo notizio del nostro telegiornale. Vi ringrazio per la gentile attenzione, ma rimanete sintonizzati perché da qualche istante ci saranno le notizie di Sporta M24. Per quanto mi riguarda è tutto, grazie e buona serata. Di Vigliante, Elvio e Luca è in Vianenna 9A in zona industriale. Buonasera da Sporta M24, apriamo con la palla a volo, girone di andata positivo per le due formazioni dell'Asp nei rispettivi campionati di Serie C. Margutta in scia della capolista Roma 7 e Sartorelli a più 2 sulla zona play-out. Vediamo il nostro servizio. Terminato il girone di andata, le due formazioni dell'Asp Civitavecchia impegnate nei campionati di Serie C sono pronte a tuffarsi in quello di ritorno. Il bilancio della prima parte della stagione è positivo per entrambe, visto che le due compagini stanno rispettando le rispettive tabelle di marcia. Per quanto riguarda le ragazze in particolare, la posizione di classifica è decisamente interessante. Le marguttine sono seconde a due punti di distanza dalla capolista Roma 7. Una delle poche squadre, insieme a Domia Volley e Virtus Latina, ad essere riuscita a battere il rosso-blu. In particolare quest'ultima sconfitta, arrivata nell'ultima giornata prima della pausa dello weekend scorso, è costata alle ragazze guidate da Mauro Taranta la testa della classifica, conservata dalle Civitavecchiesi per sole due settimane. Al di là del controsorpasso delle capitoline, il girone di Andala di Iengo e compagni ha rispettato abbondantemente le aspettative e ha visto la margutta vincere per dieci volte ed uscire sconfitta in tre occasioni. Abbiamo perso il primato, spiega coach Taranta, ma credo che il nostro cammino sia stato soddisfacente. Come ho detto più volte alle ragazze, dobbiamo restare attaccate alla capolista Roma 7 ed approfittare di eventuali passi falsi, anche perché il primo posto a fine stagione consentirebbe la promozione in Serie B2. Non sarà facile ripetere il girone di andata, perché nel ritorno le squadre ci conoscono meglio, ma siamo cresciute molto e vogliamo giocare le nostre carte, conclude l'allenatore. Arriva il giro di Boa con due punti sulla zona play-out, la Serramenti Sartorelli-Asp è impegnata in Cimmaschile. La truppa allenata da Franco Accardo è stata protagonista di un andamento a corrente alternata, come raccontano le sei vittorie e le sette sconfitte, frutto anche dei cambiamenti che ci sono stati nella Rosa. Hanno lasciato la squadra il libero busso e lo schiacciatore Martelli e sono entrati in gruppo gli esperti violanti e malavasi. Il trend è comunque positivo con Stefanini e compagni, che sono in serie positiva da tre turni. L'obiettivo salvezza sembra ampiamente alla portata, ma per il rosso-blu vietato abbassare la guardia per evitare brutte sorprese. Nelle ultime giornate abbiamo fatto un passettino in avanti verso la salvezza, spiega Accardo e dimostrato in diverse occasioni di essere una squadra vera, in grado di mettere in difficoltà chiunque. Per la permanenza in categoria non è fatta, dobbiamo continuare così. E sono scaluti questa mattina le 12 termini per il nuovo bando dello stadio Fattori. Il Comune informa che è pervenuta una offerta e a farla è stata la compagnia portuale. Nei prossimi giorni la commissione di gara valuterà la proposta e nel caso di esito positivo affiderà l'impianto in concessione alla società richiedente. Passiamo alla tredica soddisfazione in casa Tirreno per i risultati raggiunti al Centro Sportivo delle Fiamme Azzure di Casal del Marmo in occasione dei campionati regionali cross e indoor. Cristian Panico ha vinto il titolo regionale nel salto in alto per la categoria M40 grazie al suo 5,26 che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio. Il risultato di Panico è la ciliegina sulla torta di una serie di prestazioni importanti da parte della formazione del Presidente Claudio Ubaldi. E passiamo al canottaggio. La Mare Nostrum 2000 è già a lavoro per la 38esima edizione del Palio Marinaro. L'associazione del Presidente Sandro Calderai in forma che sono aperte le iscrizioni per la categoria senior. Chi vuole partecipare può telefonare al 339-585-7480 oppure il 335-844-4497 per contattare lo stesso Calderai. La manifestazione si svolgerà all'interno del porto storico il 14 di aprile con la categoria junior ed il 15 con la categoria senior. E chiudiamo con l'hockey vittoria importante per gli Snipers Tecnoalt nel campionato di serie B-C. I Nerazzurri hanno espugnato Roma battendo per 6-2 i Mammut. Nonostante quattro astenze la formazione di coach Martina Gavazzi è riuscita a prevalere sul campo della seconda classificata. In gol Fabrizi, Novelli, Elia e Luca Tranquilli, Zaccaria e De Michelis con prestazione ottima da parte del portiere Loffreddo. Civitavecchiesi sempre in testa alla classifica a punteggio pieno. Bene, era questa l'ultima notizia di questa edizione di Sportime 24. Prima di lasciarci vi ricordo che dopo la sigla andrà in onda come di consueto la nostra rubrica meteo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.